Buongiorno, benvenuti a casa mia e ben ritrovati qua nell'usuale disordine della mia libreria con un video in cui non parlerò di seconda guerra mondiale, ma parlerò di una battaglia di cui domani cade l'anniversario. Perché? Perché oggi è il 24 giugno, è anche il mio compleanno, domani è il 25 giugno e che cosa accadde il 25 giugno 1876? Ve lo dico io, 25 giugno 1876 è l'anniversario della battaglia di Little Bighorn dove le tribù Cheyenne e Sioux sterminarono una buona metà del settimo reggimento cavalleria del tenente colonnello George Armstrong Custer. Ho qualche libro che parla di questa battaglia, un argomento che mi ha sempre affascinato, un argomento che mi è sempre piaciuto. Ammetto, io senza alcuna remora, io tifavo per gli indiani, sempre, logicamente, non poteva essere diversamente. E questo argomento, questa storia della battaglia di Little Bighorn mi ha, dicevo, mi ha sempre affascinato. Nel corso degli anni l'ho studiata per benino, si può dire che l'ho praticamente imparata a memoria, anche perché oggettivamente i presunti misteri sulla battaglia di Little Big Horn sono relativamente pochi, semplici e tra virgolette inevitabili, perché lo sviluppo della battaglia di Little Big Horn, la dinamica di questo leggendario scontro, di questa sanguinosa sconfitta per l'esercito americano è estremamente ben conosciuta ed è molto ben chiara. I superstiti hanno tracciato un resoconto molto particolareggiato della battaglia. La dinamica stessa della battaglia è conosciutissima e, a dir poco, oserei dire incontrovertibile. Ci sono, come dire, alcune domande che gli studiosi si fanno. Ma Caster dove è morto? Sulla collina dell'ultima battaglia? Oppure, durante il guado del fiume, quando dovete tornare indietro, accortosi che il villaggio indiano era un boccone decisamente troppo grosso per le sue forze? Sono questi, tutto sommato, i misteri che circondano ancora la battaglia di Little Big Horn e che, ahimè, non potranno mai praticamente essere risolti. A meno che non si inventi la macchina del tempo per andare a vedere che cosa accadde in quel sanguinoso pomeriggio del 25 giugno 1876 nelle pianure vicino al fiume Little Big Horn. Se ne parla, ci sono tante leggende, la famosa ultima leggenda, insomma, come dire, il capo indiano che afferma di avere strappato il cuore dal petto di Caster, cosa non vera. L'altro capo indiano che afferma di avere sfigurato, scalpato e strappato il cuore a Tom Caster, il fratello minore del tenente colonnello Caster, che però, come dire, sono cose che si sono rivelate non vere. Dicevo, sulla battaglia c'è decisamente poco da dire, sono state scritte tonnellate di libri. La pagina Wikipedia dedicata alla battaglia di Little Big Horn è tutto sommato abbastanza esaustiva, chiara e abbastanza affidabile, con una ricca bibliografia a cui attingere. Io qui ho questo libro, questo, vedete, Stephen Ambrose, Cavallo Pazzo e Caster. In tutte le guerre indiane ci fu una sola battaglia campale tra cavalleria americana e pelle rossa, Little Big Horn, e a vincerla non furono i lunghi coltelli. Stephen Ambrose analizza le vite dei due protagonisti di George Armstrong Caster e di Cavallo Pazzo, il grande capo, il capo militare, il capo di guerra dei Sioux, perché come ben sapete Toro Seduto non era un capo militare, non era un guerriero, era uno sciamano, era una guida spirituale. Il suo ruolo di Toro Seduto durante la battaglia di Little Big Horn fu quello di stare chiuso nella sua tenda a effettuare riti propiziatori affinché il grande spirito fosse d'aiuto ai guerrieri nella battaglia. Oggettivamente quel giorno Manitou fece il suo dovere perché l'unica battaglia di stampo occidentale combattuta tra le forze americane e le tribù native si risolse in una disfatta sanguinosa per gli americani. Se ne sono dette tante, Caster non doveva dividere le forze, Caster ha sbagliato perché non si è reso conto della grandezza del villaggio nemico e della quantità di guerrieri che aveva davanti, vero? Ma mettiamola così, Caster di Errori il 25 giugno 1876 ne ha fatti ma agì in base a quello che aveva visto, in base a quello che sapeva, in base alla sua esperienza di abile capo militare durante le guerre indiane dopo la fine della guerra di secessione. Tutto qui. Caster fece, sì, degli errori operativi gravi, ma chiunque altro molto probabilmente ci sarebbe cascato. Più di lui colpevoli della pessima gestione della battaglia da parte dell'esercito americano, furono i suoi sottoposti, soprattutto Rino e Bintin. Ambrose analizza il ruolo di questi due personaggi nella battaglia. Ne spiega il comportamento. Rino è andato completamente nel pallone, nel panico, dopo essere stato attaccato da un gruppo di indiani incazzati neri e Bintin, che al posto di proseguire verso la zona in cui Caster stava combattendo, si fermò per portare aiuto al suo collega Rino, che era completamente incapace ormai di prendere la decisione perché era sotto shock. Gli errori ci furono, furono tanti, furono gravi, portarono a una sanguinosa disfatta. Come ha detto Stephen Ambrose, l'unica battaglia campale combattuta dalla cavalleria americana contro le tribù native americane si risolse in una sanguinosa disfatta con una buona metà del VII reggimento cavalleria sterminata, compresa il suo comandante, compreso due suoi fratelli e un nipote. Una strage per la famiglia Caster in pratica. Che dire, ci sono tanti piccoli episodi in questa battaglia, praticamente cavallo pazzo che incita alla carica, i suoi uomini urlando «Ocahei!» che come sapete bene vuol dire carica o avanti. È un giorno glorioso per combattere, è una buona giornata per morire. Chi ha cuore forte, chi ha cuore audace vada avanti, rimangano indietro i deboli e i vili. Probabilmente il più bel discorso di incitamento mai fatto nella storia delle guerre ad un esercito pronto al combattimento. Sicuramente. Immaginatevi voi tutti gli indiani schierati pronti alla battaglia, cavallo pazzo di fronte a loro sul suo cavallo con il suo leggendario Yellow Boy, col suo fucile Henry che li arringa dicendo veramente «è un giorno propizio per combattere, è una buona giornata per morire». «Più metallaro di così non si può, oggettivamente». Mentre Caster, quello stesso giorno nell'accampamento, diceva «con il mio settimo cavalleria sarei in grado di annentare tutti gli indiani del continente». Peccato solo che gli indiani non fossero propriamente d'accordo. Ma non facciamo polemiche. Il libro di Ambrose è tutto sommato un'opera molto utile per entrare nelle dinamiche della battaglia. E poi c'è un'altra curiosità. Nella mia biblioteca, tanti anni fa, io ho scovato questo qui. Avevo preso questo qui. L'album del generale Caster. Un volume del 1964, edito in America nel 64 e pubblicato in Italia nel 1976 per il centenario della battaglia, contenente tutta una serie di immagini, di piante, di cartine, la vita del generale Caster, la vita degli indiani, una serie di immagini preziosissime, alcune molto rare e inedite. Eccoli, per esempio, vi ho parlato prima di Rino e Bintin. Eccoli qua. Ci sono le cartine della battaglia. Ci sono praticamente la dinamica perfetta, la dinamica perfettamente spiegata da parte dell'autore di Cosa accadde. Tra l'altro c'è anche una foto, questa qui. Questo signore che vedete è Giovanni Martini, il trombettiere di Caster, italiano, salernitano di Sala Consilina, ex garibaldino, che è andato a cercare fortuna in America, si arrolò nelle giacche blu e fu mandato in guerra contro gli indiani. Tra l'altro Martini, piccola curiosità, Martini andò, cioè come dire, cercò di raggiungere, fu mandato da Caster, a raggiungere Bintin, che stava arrivando, intimandogli di portare immediatamente le munizioni. C'è un biglietto lasciato, vergato frettolosamente, dal tenente W.W. Cook, l'aiutante di campo, l'attendente, l'assistente di Caster, l'uomo di cui più si fidava. In questo biglietto c'è scritto, a matita, vergato in poche frettolose parole, che si chiamava Bintin, come on, scriveva Bintin, come on, Biquic, Big Village, Bring Packs, P.S. Bring Packs, che vuol dire praticamente Bintin, sbrigati, abbiamo trovato un grosso villaggio, porta le munizioni, firmato W.W. Cook. P.S. Porta le munizioni. Bring Packs. P.S. Puntate l'occhio su questa cosa, Bring Packs. Si è detto tanto sul fatto che Caster non si fosse accorto della massa di indiani che aveva di fronte. Questo porta le munizioni, cioè Bring Packs porta i pacchetti di munizioni. Vuol dire che Caster si era accorto di avere di fronte un numero enormemente superiore alle sue aspettative di indiani e che stava chiedendo a Bintin di portare con sé non i carri con le casse di munizioni e le grosse mitragliatrici Gatling, che avrebbero sicuramente risolto lo scontro a favore del VII Reggimento Cavalleria, ma che erano lenti da trasportare, che erano autentici pezzi di artiglieria in miniatura e che erano troppo lenti da trasportare sui terreni accidentati delle Black Hills. Quindi Caster ordinò a Bintin di portare immediatamente con sé quante più munizioni possibili, perché sapeva di avere di fronte, si era accorto di avere di fronte, un numero di indiani enormemente più grande di quello che pensava. Qualcuno dice che gli indiani, i guerrieri fossero 10.000, qualcuno dice che fossero 2, 3, 4, 5.000 così. Secondo Stephen Ambrose, gli indiani combattenti erano una cifra variabile tra gli 8.000 e i 10.000, altri affermano che si trattava soltanto di 2.500 o 3.000 guerrieri. Ma questo cambia relativamente poco, perché stiamo parlando di un reggimento di cavalleria dell'esercito degli Stati Uniti, ben armato e ben addestrato, contro una banda, contro un gruppo, contro una forza armata di indiani, sì, numericamente superiore, ma molto peggio armata. Però che cosa fecero gli indiani quel giorno? Cavallo Pazzo approfittò degli errori commessi da Caster, che aveva diviso le sue forze, attaccò prima da una parte e compì una mirabolante azione di accerchiamento a Caster, perché tutti pensano a Caster in cima alla collina. Errore! La cima della collina non fu mai raggiunta da Caster. Caster si fermò sul crinale, non riuscì mai a raggiungere la cima della collina, perché quando stava risalendo faticosamente quella collina, inseguito da Cane Pazzo e Due Lune, si trovò di fronte, in cima alla collina, chi? Cavallo Pazzo e Isiù. E lì Caster capì di essere fottuto. Si attestarono a difesa, combatterono valorosamente, spararono praticamente fino all'ultima cartuccia, ma morirono tutti dal primo all'ultimo. Tutto qua, Caster e i suoi uomini. Dopo ci sono le storie, ma Caster è morto sulla collina o è morto durante l'attraversamento del fiume, come sostengono alcune teorie? Ripeto, non si sa, non possiamo saperlo. Sono i piccoli misteri di Lidl Big Horn che ancora fanno discutere e accapigliare gli studiosi, i fanatici e i maniaci. Ma la dinamica di base di Lidl Big Horn è ben nota, è chiara, è incontrovertibile. Quando sta per attaccare il villaggio, a distanza più ravvicinata di prima, Caster vede che il villaggio indiano è estremamente grande e si accorge che gli indiani sono tanti. Come ho detto prima, manda indietro Giovanni Martini, trombettiere italiano, a chiamare rinforzi e il suo aiutante, Cook, intima a Bintin, con il biglietto, con un ordine scritto, porta i pacchi di munizioni. Sottinteso, sono tanti, non ci bastano le pallottole. Tutto qua. Quindi, ve l'ho detto, se lo trovate, questo qui è l'album del generale Caster scritto da Lawrence Frost, che era uno studioso americano innamorato della figura del generale Caster, un libro questo interessante, perché come vedete è ricchissimo di illustrazioni, ci sono tante foto, ci sono tanti dei personaggi. Oltre a Giovanni Martini, tra l'altro, oltre a Giovanni Martini c'era un altro italiano, il conte Carlo Cesare De Rudio, uno dei cospiratori con Felice Orsini dell'attentato a Napoleone III, che spinse Napoleone III in guerra contro l'Austria a fianco del Piemonte. Per dire, un personaggio che ha fatto veramente la storia, Carlo Cesare De Rudio, che si comportò eroicamente in battaglia. Un personaggio di cui vi consiglio di dare uno sguardo alla sua bella biografia su Wikipedia, che è molto accurata. Comunque sia, oggi, domani, scusate, è il 25 giugno, anniversario della battaglia di Little Big Horn, anniversario di, come si suol dire, di uno degli scontri più heavy metal della storia, di uno degli scontri che ha ispirato tanti musicisti metal per le loro canzoni, dai Running Wild, ai Sabaton, come dire, dagli Iron Maiden, dagli Iron Maiden anche ai Manowar, che hanno dedicato delle canzoni molto belle a Little Big Horn. E chiudo, di nuovo, ripeto, quello che disse Cavallo Pazzo ai suoi uomini prima di attaccare, è un giorno propizio per combattere, è un giorno propizio per morire, che a cuore forte, che a cuore audace, vada avanti e rimangano indietro i deboli e i viti. Che vi devo dire? Più heavy metal di così non si può provare. Quindi vi ringrazio tanto per l'attenzione e grazie ancora e arrivederci al mio prossimo video.